Si intitola Was Love Got To Do With It Ed è un biopic a tutti gli effetti proprio su Tina Turner, la regina del rock per eccellenza Che si va, diciamo così, a raccontare Con il volto di Angela Bassett si va a raccontare a 360 gradi In maniera oculata, in maniera attenta, pulita, prova, cercando di fornire quello che è lo spaccato anche della sua esistenza Quello che è lo spaccato della sua vita più intima, più importante E' questo il risultato di un'opera cinematografica di spessore Un'opera sicuramente piacevole da vedere Un'opera sicuramente intrigante, conturbante Che lascia emozioni in chi, effettivamente parlando, sa ascoltare, vedere e godere di questo magnifico spettacolo Autobiografia, qualcosa di epico, così straordinario E' stato presentato questo biopic alla Biennale E ha ricevuto addirittura la nomination all'Oscar Andandosi a giudicare anche il Golden Globe Insomma, sono tanti i, chiamiamoli, riconoscimenti Che la grandissima, nonché magnifica, nonché straordinaria, nonché eccellenza di Nathaniel va a ricevere E questo penso che sia uno dei tanti Vi ringrazio per l'ascolto Il video termina qua Iscrivetevi, commentate Ciao da Leandro, Narado Italiano